Il Comune di Barga ha presentato in una conferenza stampa i pareri tecnici, le cosiddette osservazioni previste nell'ambito del procedimento finalizzato a rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale relativo alla realizzazione di una piattaforma energetica a fornaci da parte di KME, ovvero del gasificatore. Con il supporto tecnico della responsabile dell'area setto del territorio, Francesca Francesconi, è stato il sindaco Marco Bonini insieme al vice sindaco Caterina Campani dall'assessore all'ambiente Giorgio Salvateci ad illustrare le osservazioni presentate, che alla fine confermano il parere negativo del Comune rispetto al progetto. Il nostro è un parere contrario che ribadiamo con forza, lo ribadiamo per l'impianto in se stesso del pilo gasificatore delle 130.000 tonnellate di palper di cartiera che dovrebbero arrivare in Valle del Serchio, lo ribadiamo alla luce del lavoro fatto in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi, per la carenza di documentazione che è stata di nuovo sottolineata nel progetto presentato da KME, che nonostante già nei mesi scorsi sia stato chiesto di presentare questa nuova documentazione, non è stata così esaustiva come tutti chiedevano. Ci dicono che Fornaci di Barga diventerà il polo più grande del rame d'Europa, evidentemente crediamo che non possa passare assolutamente attraverso il pilo gasificatore, però loro devono comunque lavorare sul mercato del rame e sull'industria metalmeccanica. Il Comune ha affidato lo studio di carte e documenti, poi ritenuti incompleti sotto diversi aspetti, a professionisti del settore, con un impegno in denaro ritenuto più un investimento che è una spesa. Abbiamo stanziato questi soldi, una parte dei quali sono già stati impegnati e ribadiamo che questa non è una spesa ma è sicuramente un investimento per il nostro territorio, per la salute del nostro territorio e per la salvaguardia del nostro territorio.